Non credo che morirà la carta stampata, credo che sia una procedura molto costosa e di grande valore. La carta stampata muore, nel senso che muore quel particolare mezzo, non muore ovviamente la necessità delle persone di informarsi e anche il mestiere del giornalista. Esisterà sicuramente per i prossimi 60, 70, 80 anni e probabilmente esisterà sempre, nel senso che diventerà sempre di più un prodotto speciale, un prodotto delitto, un prodotto costoso. Mai che domande, proprio mai, speriamo. E tutto il mondo è Varese. E siamo milioni, milioni di imprese attestate sul web e chissà che favole strane, strane le redazioni. Tra la gente che gira, che parte, che arriva e va, il social tira, boom boom, sei sul pezzo, boom boom. Glocal è avarese, no, che non scendo ancora.